Romina Cozzolino della Cobra Team di Cosenza, campionessa assoluta italiana di kickboxing. Nella categoria 70 kg, unica calabrese in nazionale da ring che nel prossimo mese d'ottobre sarà impegnata nei mondiali Waco di Sarajevo. Quando non segue le rigide regole alimentari, nel periodo di allenamento si concede qualche piacere culinario. L'allenamento, l'alimentazione e il riposo sono le tre basi per andare avanti. Però siamo esseri umani e quindi capita quella giornata in cui ci andiamo a concedere qualche sfizio. E io preferisco venire da Panino Genuino perché comunque loro ci offrono dei prodotti nostri tipici calabresi, chilometro zero, quindi comunque il prodotto è buono. E la domenica, devo essere sincera, capita che vengo qui a fare questo piccolo sgarro. Il Panino Genuino nell'area urbana Cosentina si distingue ormai per l'utilizzo di prodotti a chilometro zero. Ci distinguiamo soprattutto per i prodotti che utilizziamo nei nostri panini perché sono prodotti per il 90% più calabresi, tutti prodotti genuini come il nostro nome del locale. Ci distinguiamo anche soprattutto per quanto riguarda il pane, perché è un pane che imbastiamo noi, è un pane imbastato a mano e viene fatto lievitare almeno 24 ore a temperatura controllata. E il Panino Genuino ha effettuato una metamorfosi su cui i proprietari puntano. Adesso abbiamo aperto il secondo punto vendita, prima eravamo solo al Metropole, adesso siamo anche su Cosenza, abbiamo aperto il terzo punto vendita qua al Marconi vicino all'università e abbiamo cambiato anche il nome, quindi da Peno Genuino Minduio perché nelle nostre idee c'è quello di andare fuori dalla Calabria. Quindi Minduio come nome ci identifica subito calabresi. Utilizziamo sempre i prodotti calabresi, quindi tutti i prodotti che prenderemo dalla Calabria per portare nelle altre regioni d'Italia. Nato in Calabria come me.